Prima fila, il teatro a Bologna e provincia, a cura di BolognaTeatro.it Prima fila, calendario degli spettacoli Ben ritrovati da Carlo Magistretti All'Arena del Sole fino al 30 aprile Lazarus di David Bowie e Enda Walsh Ispirato all'Uomo che cadde sulla terra di Walter Tevis Versione italiana di Walter Malosti che cura anche la regia Tra i protagonisti Manuel Agnelli e Casa di Lego Al Teatro Deun, il 28 aprile, cose di ogni giorno di David Norisco Con Danny Mendez e Francesco Branchetti che ne cura anche la regia Al Teatro Celebrazioni, il 30 aprile, viva le donne Die con Riccardo Rossi Al Teatro Duse, il 30 aprile, omaggio a Ennio Morricone, incanto di un mito Con orchestra dal vivo, il soprano è Silvia Dolfi Massimo Simonini, direttore artistico di Angelica Festival 33esima edizione Veli e Vellieri Non le chiedo perché Veli e Vellieri Ma le chiedo che cos'è Angelica per chi ancora non lo conoscesse dopo 33 anni Angelica cerca di rappresentare ogni forma di ricerca musicale Possibilmente che si muova in ambiti non convenzionali E in questo, in 33 anni, abbiamo attraversato molta musica Molte musiche diverse Attraversando ogni genere Anzi, cercando di uscire da quella che è la dimensione del genere Ma cercando invece di mettere insieme mondi diversi E magari cercare qualcosa che invece è ibrido ed è personale E nel personale ci sono anche le forme musicali correnti Ma abbiamo visto come il jazz si sia trasformato O la musica elettronica magari accoglie uno strumento acustico Insomma, ci sono state delle evoluzioni E noi abbiamo chiamato il Festival, Festival Internazionale di Musica Proprio perché parliamo di musica e non di una musica o di un genere musicale Il Festival si svolge nel mese di maggio al Teatro San Leonardo Nel ricordare che le informazioni si trovano sul sito aaa-angelica.com E che sono tanti gli appuntamenti Me ne segnali un paio, assolutamente secondo lei imperdibili Beh, l'apertura del 2 maggio Con un concerto alle ore 19, uno alle ore 22 Con Jim O'Rourke e Eiko Ishibashi Però il giorno dopo c'è un altro duo Meraviglioso Che invece dall'elettronica del primo duo del 2 maggio Il 3 maggio diventa acustico Pianoforte voce Per attraversare la tradizione etiope Svedese e armena Con un carattere intimista Quindi completamente verso Poi entriamo il 5-6 maggio Nella dimensione della storia del jazz Ma del jazz d'avanguardia Con Vadada Leo Smith E i suoi 80 anni passati Che ci porta a un gruppo Che non ha mai suonato insieme Insieme anche a un quartetto d'archi di Bologna Che si chiama Istantanea Grazie Ora parliamo di un'iniziativa Che ci porta in provincia di Bologna A Ozzano, Castel San Pietro e Minervio Da aprile a agosto 2023 Si chiama Art in Circo Festival Ne parliamo con Nando e Maila e Marilu Che cos'è Art in Circo Festival? Io direi che è una festa Di circo contemporaneo e non solo Che vuole raccogliere tutti Per scambiare emozioni e tanti tanti sorrisi Come dicevamo in provincia di Bologna Anzi nella città metropolitana Sono tre le location previste Sì Abbiamo il cuore centrale Che si svolge ad Ozzano E poi vengono coinvolti altri comuni Che sono Castel San Pietro e Minervio A Ozzano il festival si sposta anche In una frazione di Mitrof Che ha sette fonti Che è una parte più naturale Diciamo così Perché appunto si svolge in un bosco E quindi sostanzialmente Questi tre luoghi Questi tre comuni Il festival Diciamo dopo la prima parte Che è Ozzano Finisce il 7 Ozzano Paese Il 7 maggio Poi si sposta a Sette Fonti Per i due fine settimana di maggio Poi si sposta a Castel San Pietro Il 3 e il 4 giugno E luglio su agosto A Minervio Quindi arriviamo fino a fine agosto In questa edizione C'è anche una certa attenzione All'ambiente Sì abbiamo Diciamo Vogliamo promuovere anche Il riciclaggio e l'ecosostenibilità Con appunto Piatti di carta Bicchieri e posate Di plastica Compostabile Quindi abbiamo Tutto compostabile E riciclabile Così da creare anche Un'ecosostenibilità E un'inclusività Verso l'ambiente Siamo in collaborazione Con il gruppo Hera Che ci fornisce l'acqua Così per non vendere Bottiglie di plastica Che appunto inquiniano E anche l'illuminazione È prevalentemente a led Abbiamo scelto Di illuminare il parco Con tutte le lucine a led E anche Diciamo le luci del tendone Da circo Che abbiamo usato Sono led Per un risparmio notevole Per avere maggiori informazioni www.artincirco.it E da lì si viene condotti Senza dubbio Tutte quelle che sono Le attività della programmazione Ma anche poi Le altre attività Che sono La scuola di circo E anche una piccola rassegna Che si svolge su Anche in Ducamara Che fa parte comunque Del cartellone Del cartellone Del festival Grazie a Nando e Maila E Marilu Prima fila Magazine Oggi andiamo anche A Medicina Per parlare Di uno spazio Che si chiama Sala del Suffraggio Dove dal 5 maggio All'8 giugno C'è una iniziativa Che si chiama Contemporaneo Teatro del Tempo Presente Curata da Mario Perrotta Mario bentrovato Ciao Ciao a tutti Raccontaci di questa Rassegna di Teatro Del Tempo Presente Intanto Lo spazio Della Sala del Suffraggio Non è tra i più noti Della provincia Di Bologna No È uno dei due Spazi teatrali Del comune di Medicina Che è il comune Di mia residenza Da ormai 15 anni E dopo aver iniziato Una relazione Con il comune Diciamo Non ufficiale Ufficiosa Negli anni Da quest'anno Abbiamo deciso Invece Di Interprendere Un progetto Complesso Articolato Che prevede Tra l'altro Appunto La realizzazione Di Una rassegna Per il comune Di medicina Di teatro Come l'abbiamo appunto Intitolato Del presente Teatro contemporaneo Nuova drammaturgia Se possibile Ma non per forza Sicuramente Andare a scegliere Spettacoli E titoli Che parlino Dell'oggi E quindi Ci andiamo A Come dire A installare In Questo teatro Che è la sala Del suffraggio Con cinque appuntamenti Tra l'altro È una delle due sale Appunto Dove noi Abbiamo ultimamente Provato I nostri spettacoli Gli ultimi lavori Della compagnia Compreso dei figli Che recentissimo Premio Ubu È nato È nato proprio lì dentro Quindi sono spazi Cui noi siamo Molto legati E che vorremmo Fare emergere Non solo Come contenitori Di rassegne Di teatro Diciamo Per il teatro classico Per le famiglie O del teatro comico Ma anche Anche Perché così L'offerta È articolata Anche di teatro Teatro contemporaneo Di scritture Contemporanee E questo è il progetto Una parte del progetto Ideato Per il comune di medicina Allora vedo Nel programma Che ci sono molti appuntamenti Allora Tra i tanti Vedo La lettera di Paolo Nani Che è uno spettacolo Straordinario Che gira da tantissimi anni In tutta Europa Con grande successo Poi c'è L'Atlante linguistico Della Pangea Un altro spettacolo Molto interessante Anche questo premio Ubu Poi Ci sono altri spettacoli Raccontaci in tanto Di questi due E poi velocemente Anche degli altri Beh Con la lettera di Paolo Nani Ci troviamo davanti A uno spettacolo Che è stato definito Una vera e propria Enciclopedia Della comicità Sono appunto Trent'anni Credo Quasi Quasi O trent'anni Di tournée Direi mondiale Se non Più che europea Con un'idea Un'idea semplice Ma geniale Veniamo portati appunto Nel mondo Della comicità Quella appunto Semplice Ma che ti lascia Scoperto È impossibile Resisterli Come dire Solleciterei A sbrigarsi Perché ovviamente Soprattutto visto Il tipo di appuntamento I biglietti Stanno andando A ruba E quindi Andrei velocemente A prenotarmi Poi invece Con lo spettacolo Dei Sotterraneo Sì Siamo con una compagnia Che ha già vinto Due volte Premio Ubu E l'ha vinto Nella categoria Diciamo più ambita Da noi Che facciamo teatro Dell'anno Quindi Si tratta di uno spettacolo Dove Attraverso L'indagine Dei termini Meno traducibili Dalle altre lingue Del mondo Si prova a ragionare Invece di comunicazione Cosa di cui oggi Avremmo Un bisogno estremo E che invece Soprattutto Gli ultimi eventi Hanno messo parecchio Alla frusta No Il riuscire a comunicare Oggi Si preferiscono Altre maniere Diciamo Di avere a che fare Quelle dure Quelle del più forte E forse invece Dovremmo occuparci Più di questo E poi si prosegue Con gli altri appuntamenti Che se vuoi Cito adesso Cita Cito Dunque Ci sarà l'esito Del laboratorio teatrale Che appunto Abbiamo inaugurato Anch'esso quest'anno Condotto da Alessandro Migliucci Ed è rivolto A non professionisti Per far sì Che possano scoprire Le bellezze E i segreti Del teatro Dietro le quinte Ed è un altro modo Di intervenire Sul territorio Perché Chi partecipa Al laboratorio Diventa poi Uno spettatore Più informato E magari Traina dietro di sé Altri spettatori Familiari Amici E questo significa Appunto Creare un circolo Virtuoso Sul territorio Però Alessandro Che è un ottimo docente Un ottimo uomo Di teatro Ha avuto il compito Che sono sicuro Porterà a casa In maniera egregia Di creare Un saggio Di fine anno Che possa stare All'altezza Dei titoli Che stiamo citando Per cui Io gli ho chiesto Esplicitamente Personalmente Ti metto in stagione Perché mi fido Del fatto Che farai Uno spettacolo Importante Per cui Li aspettiamo Di più Non so dire Perché ovviamente Deve debutare E debuterà lì Però Ripeto Confido Nel lavoro Che farà Alessandro Con degli allievi Che pare Siano molto 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 Coinvolti Nel progetto Gli ultimi due Appuntamenti Quest'anno Sono con la nostra Compagnia Lo spettacolo Che mi ha Cambiato la vita Da attore Che faceva La sua Sana gavetta Con altre compagnie O che con la sua Compagnia principale Di allora Che era Il teatro dell'argine E scriveva Di spettacolo Insieme agli altri Andava in scena E sperava Che un giorno Sarebbe accaduto qualcosa Con Italiani Cinca Lì scritto da me Da Nicola Bonazzi E prodotto Da teatro dell'argine Appunto Ci cambia Un po' La vita A tutti Nel senso che Diciamo Il mondo del teatro Si accorge Di noi E che Personalmente Davvero Mi ha cambiato L'esistenza Perché da allora Ho avuto la possibilità Di pensare Un mio teatro E lì racconto Qualcosa Che ancora oggi Purtroppo è valida Vorrei non farlo più Quello spettacolo Ma invece È ancora molto Molto Attuale Si tratta Del racconto Degli italiani Emigranti Nelle miniere Del belgio Dal dopoguerra Fino al 1992 Raccontando Del lavoro Peggiore del mondo Che di solito Sono i lavori Che vanno a fare I migranti In altri paesi E quello era Insomma Forse Davvero La miniera Una volta Che te la senti raccontare E sei costretto A sintetizzarla In uno spettacolo Ti rendi conto Che è davvero Il lavoro peggiore Del mondo Però È un racconto Fatto con grande levità Perché incontrai Questo personaggio Straordinario Che era Un postino Salentino Che non si era mai Spostato da casa Ma attraverso le lettere Era riuscito a ricostruire Tutte le storie Dei migranti E delle famiglie Rimaste a casa Delle donne Che aspettavano Questi mariti Di tutti gli aneliti Portati a casa E anche quelli Svaniti nel nulla Di un'intera comunità E appunto Quello spettacolo Mi cambiò davvero Resistenza E poi Arriviamo praticamente All'oggi Con il primo capitolo Della trilogia Che è dedicato Alla famiglia Insieme alla consulenza Drammaturgica Di Massimo Recalcati Il nome del padre Ed è appunto Lo spettacolo Dedicato alla figura Dei padri Poi è seguito Uno spettacolo Che si chiama Della madre Dedicato alla figura materna E dei figli Che appunto Ha chiuso La trilogia Con il quale Abbiamo portato a casa Premio Ubu A dicembre scorso Con il nome del padre Provo ad affondare Diciamo La penna Ormai non più la penna Si affonda le dita Sul computer Nei padri Nei padri contemporanei Italiani Vorrei specificare Perché immagino E spero che all'estero La situazione sia diversa Tre padri Come ho detto Diversissimi tra loro Per estrazione culturale Provenienza geografica Situazione economica Ma tutti e tre Irrimediabilmente nudi Di fronte al compito Importante Di gestire tre figli Adolescenti Con i quali semplicemente Non hanno trovato Un canale di comunicazione E mi diverto Da solo in scena A dare vita a tre padri Passando continuamente Da l'uno all'altro Cambiando semplicemente Il dialetto L'accento E ovviamente Il lessico A seconda della cultura Del personaggio Ma appunto Sono tre padri Che abitano Nello stesso palazzo Per cui Uno invidia l'altro Pensando che Quell'altro Abbia un rapporto Più decente Col proprio figlio E non sa Che nello stesso momento Sta avvenendo Un altro psicodramma A volte anche comico Nell'altra casa Questa è la proposta La proposta di quest'anno Con cinque appuntamenti Che speriamo Appunto Facciano tutti insieme Un racconto del presente Allora L'appuntamento Con la rassegna Contemporaneo Teatro appunto Del tempo presente Dal 5 maggio All'8 giugno A Medicina In provincia di Bologna Alla sala del suffragio Grazie a Mario Perrotta Che ha curato questa rassegna Gli riferimenti Li potete trovare Tutti sul nostro sito www.marioperrotta.it Grazie a tutti